Ok, vediamo come risolvere questo problema dell'espressione dei dati. Nel primo problema dobbiamo esprimere la molarità di una soluzione che abbiamo preparato in laboratorio con il corretto numero di cifre significative e con l'intervallo di confidenza. Dobbiamo, per fare questo, tenere conto di tutte le incertezze che abbiamo nell'utilizzo dei vari strumenti. Quindi noi abbiamo innanzitutto con la bilancia analitica pesato una certa massa di carbonato di potassio e questa bilancia ci dà una precisione del decimo di milligrammo in cui ci teniamo lati e prendiamo un'oscillazione di due decimi di milligrammo in più o in meno. E questa quindi è l'incertezza della bilancia. Nel matraccio abbiamo da 100 millilitri, abbiamo un'incertezza invece scritta sul matraccio di 0,1 millilitri. Questo matraccio a che cosa è servito? È servito per trasferirvi la quantità di carbonato di potassio che abbiamo pesato e poi portato a volume appunto a 100 millilitri con questa incertezza di un decimo di millilitro. Poi abbiamo prelevato da questo primo matraccio con una pipetta da 10 millilitri avendo un'incertezza assoluta di 0,0. In realtà erano 2 millilitri quello che era scritto nel testo, quindi qui c'è un errore da correggere. Nel testo del problema c'è scritto che la pipetta è classe A e quindi ha un'incertezza di 0,02 millilitri. Infine, questo prelievo di 10 millilitri è stato messo in un secondo matraccio e portato a volume a 100 di nuovo con la stessa incertezza di prima, cioè un decimo di millilitro. Come si sommano tutte queste incertezze? Se bastasse fare la somma sarebbe fatta, ma in realtà è un po' più complicata. Tra l'altro non è che noi possiamo sommare i milligrammi ai millilitri, eccetera. Quindi ci sono alcuni passaggi da fare che sono descritti qui. Quindi dobbiamo andare a vedere come si sommano le incertezze. Dopo il nostro studio abbiamo riscoperto che per le moltiplicazioni e le divisioni si devono sommare le varianze relative. Quindi ecco una tabella con i dati in nostro possesso. La bilancia ha un errore di due decimi di milligrammo, entrambi i matracci hanno un errore di un decimo di millilitro e la pipetta due centesimi di millilitro. Iniziamo con il calcolare la deviazione standard relativa. Relativa a che cosa? Alla misura che noi abbiamo effettuato. Quindi nel caso della bilancia analitica noi abbiamo pesato intorno a 0,69 grammi. Quindi l'errore relativo sarebbe di 2 per 10 alla meno 3, anzi 2 per 10 alla meno 4, quindi 0,0002. Questo è l'errore che abbiamo compiuto, questi grammi, su la pesata che abbiamo fatto, cioè di 0,69 grammi. Il risultato è quello che dobbiamo scrivere in questa casella, quindi 0,302 diviso la pesata, 0,69. E questo ci dà una frazione di 2,9, quindi mettiamo 3 per 10 alla meno 4. Scriviamo 3 per 10 alla meno 4, cioè 0,0003. Questa è la deviazione standard relativa. Calcoliamo ora la varianza relativa. La varianza è il quadrato della deviazione standard, quindi prendiamo la nostra calcolatrice, dove c'è ancora il valore, e facciamo il quadrato di questo valore. Basta metterla in modalità scientifica, così abbiamo x quadro, facciamo il quadrato, e troviamo che è 8,4 per 10 alla meno 8. Chiaramente possiamo tenerci anche un po' più larghi, quindi se noi avessimo scritto il quadrato di 3 per 10 alla meno 4, qui avremmo trovato 9 per 10 alla meno 8. 9 per 10 alla meno 8 lo possiamo arrotondare a 1 per 10 alla meno 7. E 10 alla meno 7 lo possiamo scrivere, esprimere, sempre lasciandolo 10 alla meno 7, come 0,1 per 10 alla meno 6. E vedremo poi più avanti perché ci conviene tenerci questo 10 alla meno 6 per facilitare il calcolo a mente. Allora, per quanto riguarda il primo matraccio, la deviazione standard relativa sarà 0,1 fratto 100. 0,1 fratto 100 fa 0, Dobbiamo aggiungere altri due zeri, quindi 0,201. Queste sono adimensionali chiaramente perché stiamo facendo millilitri diviso 100 millilitri e il risultato è un numero adimensionale. Come prima abbiamo fatto grammi diviso grammi e ci dà un numero puro di circa 3 decimi, qui abbiamo un millesimo e la varianza relativa dobbiamo fare il quadrato di questo numero che è 10 alla meno 3, che ci darà 10 alla meno 6, quindi copiamo questo, 10 alla meno 6. Per quanto riguarda la pipetta dobbiamo fare 0,02, qua, che è l'incertezza, diviso il volume della pipetta che è 10 millilitri, quindi otteniamo uno zero in più dopo la virgola, quindi 0,202, 0,202, e anche questa è l'incertezza relativa che elevata al quadrato ci darà il quadrato di 2 è 4, ci darà 4, 10 alla meno 3 al quadrato è 10 alla meno 6, quindi 4 per 10 alla meno 6. Il matraccio da 100, l'altro matraccio da 100, il secondo matraccio da 100 è uguale al primo matraccio da 100 e quindi copiamo e incolliamo. Adesso noi abbiamo le nostre varianze relative che sono 1, 4, 1 e 0,1 sempre per 10 alla meno 6. Esprimiamo i dati non come ce li danno la calcolatrice, ma come ci fa comodo per poter fare dei calcoli a mente molto rapidamente. Dobbiamo fare 1 più 4 più 1 più 0,1 e il risultato è 6,1 per 10 alla meno 6. Quindi abbiamo applicato questa regola, abbiamo sommato le varianze relative e la somma è questa. Quindi qui scriviamo somma varianze relative. Ora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare un passaggio, ritornare indietro, cioè ritornare alle deviazioni standard relative, quindi fare la radice quadrata di questo risultato. La radice quadrata è chiaramente totale, però non ci interessava di trovare quella totale. La radice di questo dato, di 6,1 per 10 alla meno 6, la radice è 0,2025. 2,025, ma questo è ancora un numero adimensionale, praticamente è 2,5 millesimi. Questo significa che noi complessivamente sommando tutti questi errori relativi, se noi li sommassimo tal quale otterremmo 4,3, in realtà l'errore che facciamo è più piccolo, è di 2,5 millesimi. 2,5 millesimo del 2,5 per mille è l'errore che noi facciamo a causa delle incertezze nel conoscere la molarità, l'incertezza della molarità e la soluzione che abbiamo preparato facendo tutte queste operazioni di laboratorio. Quindi 2,5 millesimi dobbiamo ancora trasformarla però in deviazione standard assoluta, quindi non faccio altro che fare di nuovo copia e incolla e sostituire la parola relativa con assoluta. Anche in questo caso dobbiamo fare il contrario di ciò che abbiamo fatto prima, per trovare la deviazione standard relativa avevamo diviso l'incertezza assoluta per il valore della misura. In questo caso invece di dividere dovremo moltiplicare, quindi dobbiamo fare 0,2025, diciamo il valore che abbiamo nella calcolatrice, e rimoltiplicarlo per il valore della molarità. Noi abbiamo una molarità che è 0,205 più o meno, moltiplicato per quel valore ci dà un'incertezza di 1,2 per 10 alla meno 5. Quindi scriviamola qui, 0,4012. Quindi togliamo il 2 che non è significativo, ci abbiamo un'incertezza di una parte su 100.000. Adesso esprimiamo il valore della molarità. Quindi se la nostra molarità era M2 della soluzione, quindi diluita, la molarità della soluzione diluita era 0,005 molare. Con quante cifre la conosciamo? Conosciamo fino alla quinta cifra, che è quella incerta, quindi qui possiamo mettere, se abbiamo fatto la pesata esatta, analitica ma in più anche esatta, diciamo quella calcolata, abbiamo fino alla quinta cifra, e poi dobbiamo scrivere che c'è il più o meno 1 sulla quinta cifra, quindi 0,0401. Questa è l'espressione corretta della molarità che ci portiamo dietro per l'analisi e quindi per il problema numero 2. Ma prima di passare al problema numero 2, vorrei imparare a valutare meglio questo valore, non prendere il numero che esce dalla calcolatrice. A quanto ammonta questa incertezza? ammonta di una parte su 500, perché noi se leggiamo questo numero, senza la virgola, senza gli zeri a sinistra, vediamo che abbiamo 500 qui e un'unità su 500, quindi il nostro errore è di una parte su 500. E questo, diciamo, è l'incertezza relativa e sarebbe il 2 per 1000. Abbiamo un'incertezza del 2 per 1000. In termini assoluti, invece, questa è in termini relativi, invece in termini assoluti l'incertezza è di 1 per 10 alla meno 5 molare. Seconda parte del problema generale. andiamo con la nostra soluzione circa 5 mili molare con un'incertezza del 2 per 1000, andiamo a fare una serie di titolazioni, cioè di prelievi di questa soluzione da 10 millilitri, ecco qua, 5 prelievi da 10 millilitri, li mettiamo in un becker o in una beuta, ciascuno di questi prelievi viene titolato con una soluzione di acido cloridrico a concentrazione approssimativa a 0,01, ma incognita, nel senso che noi dovremo trovare la concentrazione esatta di questo acido cloridrico che viene posta all'interno di una buretta avente tolleranza di 0,05 millilitri che corrispondono praticamente a una goccia. La reazione che avverrà tra il carbonato di sodio o di potassio quello che è nella vostra beuta o nel vostro becker con l'acido cloridrico che scende dalla buretta è questa qua, in cui vediamo che per ogni mole di carbonato di sodio che preleverete con la pipetta ci vorranno 2 moli di acido cloridrico che scenderanno dalla buretta. Andiamo quindi a fare le titolazioni, facciamo finta che abbiamo fatto 5 volte l'aggiunta dalla buretta fino ad arrivare ogni volta al completamento alla neutralizzazione completa del carbonato di sodio che è resa visibile con l'aggiunta di un indicatore che cambia colore e così via e abbiamo trovato questi valori sperimentali. In base a questi valori sperimentali ci calcoliamo quante sono le molarità della soluzione di HCl chiaramente la molarità vera si spera che sia in qualche modo vicina alla media di questi valori sperimentali. Qui c'è la procedura di calcolo per arrivare dai millilitri dell'acido cloridrico usato per la titolazione alle molarità sperimentali di ognuna di queste titolazioni. Ma andiamo adesso alla parte che ci serve cioè di valutare l'imprecisione diciamo del dato medio delle molarità seguendo le istruzioni. Vediamo innanzitutto che dobbiamo sottoporre al test di Dixon i valori estremi della serie delle molarità quindi per comodità le vado a incollare in un foglio di calcolo facendo copia e incolla controlliamo che siano messe in ordine crescente o decrescente in questo caso la maggiore è quella in alto seconda la terza e questa è la più bassa perfetto allora il test di Dixon lo dobbiamo fare solo con i valori estremi perché sono quelli che possono essere troppo distanti dagli altri per esempio l'ultimo che è inferiore a 0,01 andiamo a valutarlo per il test di Dixon che va fatto prima di calcolare la media perché se dobbiamo escludere dei valori poi dopo che li abbiamo esclusi andiamo a calcolare la media e la deviazione standard quindi si prende il valore sospetto o quello troppo grande o quello troppo piccolo e lo calcoliamo la differenza rispetto a quello più prossimo quindi dobbiamo fare questo valore aperto la parentesi il valore appena un po' più grande meno il valore sospetto questo chiusa la parentesi diviso l'intervallo complessivo quindi la differenza aperta la parentesi tra il valore più grande di tutti meno il valore più piccolo di tutti chiusa la parentesi invio e otteniamo questo valore che è assolutamente molto piccolo vediamo infatti da questa tabellina simile a quella del libro ma con più valori perché arriva fino a 10 misure ma per 5 misure come nel nostro caso il valore da superare di questo rapporto è di 0,6 e noi stiamo a 0,1 per avere una certezza al 90% che il valore è anomalo invece se volessimo una certezza al 95% quindi ancora più sicuri dovremmo arrivare a un rapporto di 0,7 o addirittura 0,8 per scartarlo con il 99% di probabilità quindi il nostro dato estremo quello più piccolo è da mantenere calcoliamo la stessa cosa adesso per quello più grande di tutti quindi facciamo la stessa formula uguale aperta la parentesi il valore sospetto troppo grande meno il valore immediatamente più vicino chiusa la parentesi diviso l'intervallo totale quindi riaperta la parentesi il valore più grande meno valore più piccolo il rapporto anche in questo caso è 0,202 quindi non arriviamo a non abbiamo alcuna ragione per scartarlo una volta che sappiamo che tutti i dati vanno presi allora dobbiamo calcolarci la media e la deviazione standard per calcolare la media basta che scriviamo uguale media aperta la parentesi e ci mettiamo tutti i valori dell'intervallo chiusa la parentesi per calcolare la deviazione standard scriviamo uguale stdev tutto l'intervallo dei valori da C3 a C7 chiusa la parentesi e questa è la nostra deviazione standard con questi due valori noi possiamo andare ad esprimere l'incertezza del valore della molarità dell'acido cloridrico che abbiamo di cui abbiamo determinato appunto la concentrazione sconosciuta che è 0,0128 eccetera eccetera lo andiamo a determinare con questa incertezza cioè di 3 sulla quarta cifra dopo la virgola in moli sul litro adesso facciamo copia e incolla e ci ritroviamo quindi a questo punto abbiamo la molarità che chiaramente non potrà essere con tutte queste cifre cioè non tutte queste cifre saranno significative vediamo già che c'è un'incertezza dovuta alla strumentazione che abbiamo dovuta alla variabilità tra le diverse prove anzi che è di 0,303 quindi qui possiamo togliere tutte queste altre cifre che non servono a niente e ci accontentiamo di questo 3 che ci dice che abbiamo un'incertezza già fin d'ora di 3 sulla quarta cifra dopo la virgola quindi questo 2 praticamente è la nostra quarta cifra è incerto di più o meno 0,303 ma questa è l'incertezza sperimentale cioè la variabilità delle diverse titolazioni che noi abbiamo fatto la variabilità delle diverse anche se noi operiamo in maniera perfettamente costante utilizzando tutte le apparecchiature nello stesso modo ripetendo la determinazione la titolazione per 5 volte non otteniamo per 5 volte di seguito lo stesso risultato ci sono gli errori casuali accanto a questo però dobbiamo andare a determinare l'incertezza strumentale anche per esempio potrebbe capitare che noi facciamo 4 determinazioni perfettamente uguali perché siamo ultra precisi ma nonostante ciò non possiamo dire che il risultato della modalità è esatto con infinite cifre significative non lo può mai essere perché comunque c'è l'incertezza che ci portiamo dietro con gli strumenti che utilizziamo quindi dobbiamo ripetere la stessa valutazione che abbiamo fatto precedentemente seguiamo i punti A, B e C allora nel caso della modalità l'incertezza abbiamo detto che era nel decimo nella quinta cifra dopo la virgola quindi questi zeri li sostituiamo con un altro zero e un uno e questo quindi è l'espressione della modalità che è nota fino alla quinta cifra che sono 5 millimoli sul litro con un'incertezza di un centesimo di millimole sul litro poi abbiamo anche un'altra causa di errore un'altra fonte di errore che è la tolleranza su della pipetta che abbiamo detto era 0,02 millilitri quindi l'incertezza nella graduazione della buretta siccome abbiamo diversi volumi potremmo arrotondare a 10 ma se vogliamo fare finta di essere più precisi prendiamo il valore centrale della serie cioè questo il valore centrale della serie è 9,80 che in realtà il volume varia tra 9,3 e 10,05 questo ci servirà per calcolare diciamo la deviazione standard relativa cioè dividere questo 0,05 per il volume il volume variabile appunto prendiamo solo un volume non lo calcoliamo per tutte e 5 le titolazioni ma solo per una quindi abbiamo tre cause di errore strumentale in aggiunta alla nostra molarità che ha una piccola incertezza quindi come abbiamo fatto prima costruiamo una tabella ricordandoci che anche in questo caso dovremmo sommare le varianze relative perché per il calcolo che c'è da fare per passare dai millilitri di ogni titolazione alla molarità dell'acido utilizzato per la titolazione dobbiamo fare solo moltiplicazioni e divisioni per le moltiplicazioni e divisioni si sommano le varianze relative quindi partiamo dalle incertezze assolute nel caso la molarità è 0,00 sulla quinta cifra una parte sulla quinta cifra per la pipetta da 10 abbiamo in questo caso 0,02 millilitri perché è una pipetta di classe A mentre se fosse di classe B come quella che utilizzeremo prossimamente sarà di 0,04 millilitri per il volume della titolazione è quello che ci dà la buretta in questo esercizio prendiamo 0,05 che corrisponde a una goccia poi invece nell'atto pratico sarà molto difficile sbagliare soltanto di una goccia e quindi ne prenderemo almeno due quindi 0,1 millilitri allora calcoliamoci le relative le relative si ottengono dividendo l'incertezza per il valore della misura quindi abbiamo qui una parte su 500 come abbiamo già visto che corrisponde a due parti su 1000 quindi 0,202 per dare la divisione tra 10 alla meno 5 diviso 5 per 10 alla meno 3 e sono delle grandezze adimensionali qui abbiamo due parti su 10 dobbiamo aumentare uno 0 abbiamo quindi due 0 2 praticamente uguale e in questo caso dobbiamo fare 0,05 diviso 9,8 tanto vale che facciamo diviso 10 e quindi 0,05 aumentiamo 1,0 ricordiamoci che tutti questi dati vanno sono hanno importanza soltanto una cifra significativa quindi è inutile stare a perdere tempo con la precisione sul valore visto che stiamo calcolando errori le varianze relative sono i quadrati di questi valori quindi 2 per 10 alla meno 3 al quadrato farà 4 per 10 alla meno 6 valore che andiamo a incollare anche su quest'altro dato che è uguale identico quindi invece qui abbiamo 25 per 10 alla meno 6 perché sono 5 per 10 alla meno 3 al quadrato 25 per 10 alla meno 6 quindi vediamo che l'errore maggiore è questo che importa fare non la precisione nell'uso della calcolatrice ma nel guardare ciò che è veramente importante noi facciamo un errore più grande con la buretta rispetto agli altri strumenti di misura sommiamo adesso le varianze relative che sono tutte in milionesimi quindi basta fare 25 più 4 più 4 che fa 33 per 10 alla meno 6 quindi dalla varianza relativa complessiva ci ricaviamo la deviazione standard facendo la radice quadrata la deviazione standard relativa è totale la radice quadrata di 33 per 10 alla meno 6 33 per 10 alla meno 6 è 0,2057 la ritrasformiamo in in deviazione standard assoluta quindi dimensionata ricordandoci che noi stiamo cercando la deviazione standard complessiva della molarità dell'acido cloridrico che dovrebbe essere intorno a 0,01 con varie altre cifre che vengono dopo la virgola e quindi se questi sono se questa deviazione standard relativa di quella misura ammonta 5,7 millesimi noi dobbiamo trovare i 5,7 millesimi di 0,01 e 5,7 millesimi di 0,01 significa moltiplicare 0,0057 per 0,01 che è il valore della molarità dell'acido cloridrico e otteniamo quindi di aggiungere altri due zeri 0,20 più altri 2,56 questo quindi ha delle dimensioni in moli sul litro a questo punto perché lo 0,01 per cui abbiamo moltiplicato aveva dimensioni della molarità quindi la nostra incertezza strumentale uguale e possiamo anche arrodondarla a 0,406 arrodondiamo 57 a 6 moli sul litro quindi ora ci viene richiesto di valutare se la deviazione standard della serie di misure è maggiore minore o circa uguale all'incertezza strumentale che abbiamo appena valutato l'incertezza diciamo della serie di misure è data dalla sua deviazione standard e l'abbiamo calcolata precedentemente semplicemente facendo la deviazione standard di tutte le molarità avevamo trovato 0,3 millesimi quindi questa è la deviazione standard di 0,303 allora andiamo questa incertezza sperimentale 0,303 a confrontare con questa e vediamo che l'incertezza sperimentale è ben più grande perché ammonta praticamente a circa 5 volte di più dell'incertezza strumentale quindi valuta se la deviazione standard della serie di misure è maggiore si è maggiore non è minore né minore né circa uguale in ogni caso bisogna prendere la maggiore delle due quindi a questo punto nel punto 4 dovremo utilizzare il valore dell'incertezza sperimentale da mettere qui esprimi l'intervallo di confidenza del risultato cioè la molarità media di HCl che era questa con tutte le cifre anche quelle che non sono assolutamente significative e ora andiamo appunto a tagliarle e ci mettiamo vicino questo valore dell'incertezza sperimentale di 0,303 quindi abbiamo l'incertezza alla quarta cifra dopo la virgola quindi i valori le cifre sicure le cifre certe sono fino a questo 2 mentre l'8 la dobbiamo utilizzare tutte le altre solo per arrotondare solo per arrotondare il 2 a 3 cancelliamo e quindi scriviamo il valore definitivo dell'espresso correttamente uguale 0,0103 abbiamo solo tre cifre significative in pratica nel risultato finale della molarità e questo a causa del grosso errore che si compie principalmente con la buretta più o meno 0,303 moli su litro leggiamo la parte finale se la variabilità sperimentale come deviazione standard delle diverse titolazioni è maggiore allora usa questa per stabilire l'intervallo di confidenza ci siamo trovati in questa situazione se invece l'errore strumentale che può essere anche stabilito prima di fare le titolazioni è maggiore allora useremo questa come margine di incertezza cioè la media della risultante delle tre tolleranze A, B e C cioè il valore della molarità il valore della pipetta e il volume della titolazione che sono tutte cose che possiamo calcolare anche prima di entrare in laboratorio in modo da non perdere tempo mentre per calcolare l'incertezza sperimentale possiamo semplicemente fare la deviazione standard e non ci vuole niente oltre a fare la media facciamo la deviazione standard che è questo valore di 0,3 millimoli sul litro e poi lo confrontiamo con la l'incertezza strumentale che abbiamo calcolato precedentemente c'è anche un metodo più rapido quando le misure sono poche anche se non dà esattamente gli stessi valori che consiste nel valutare il semi intervallo delle molarità quindi possiamo vedere anche questo nel caso che ci siano difficoltà a calcolare la deviazione standard torniamo ai nostri valori delle molarità eccole qua il semi intervallo ce l'abbiamo già perché abbiamo la più grande in alto e la più bassa sotto e quindi per calcolare il semi intervallo basta prendere la molarità più alta di 0,0169 5 meno la più bassa 0,2099 50 e dividere questo intervallo per 2 questo è un calcolo più rapido della deviazione standard che richiede o una calcolatrice programmabile o un foglio di calcolo ripeto siccome non tiene conto dei valori intermedi ma tiene conto solo del primo e dell'ultimo e quindi non dà delle indicazioni della dispersione non è un indice di dispersione ben fatto come lo è la deviazione standard comunque sia se ci troviamo con i tempi corti utilizziamo questo mezzo 695 meno 0,2099 50 uguale questo lo dividiamo per 2 e vediamo che viene un 0,3037 che arrotondiamo a 4 quindi se noi utilizziamo la semi dispersione invece di avere questo risultato con 0,303 avremmo il risultato con 0,304 ma rimane sempre la stessa precisione cioè l'incertezza sull'ultima delle 4 sulla quarta cifra dopo la virgola ok e questo è tutto è tutto